Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Infibili per lavori tre chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino verso Livorno e un chilometro di coda tra Empoli-Est e Cinestra-Fiorentina verso Firenze. Per questi lavori svincolo di Montelupo chiuso un'entrata in entrambe le direzioni e un'uscita provenendo da Firenze, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scantici verso Firenze. In A1 verso Bologna 4 chilometri di coda per lavori tra Aglio e il bivio con la variante di Valico-Laquercia, sempre verso Bologna chiusura mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di Valico-Baccheraia e Aglio. Code in uscita a Firenze-Sud e in uscita a Valdarno entrambe provenendo da Bologna. In A11 code tra Firenze-Ovest e Prato-Est verso Pisa ed è tutto, buon viaggio!